La Regione Abruzzo, prima in Italia, finanzia con 40.000 euro il progetto sperimentale OASI, operazione per attività di sollievo e inclusione che mirarà ad alleviare il carico dei caregiver nelle famiglie di persone con disabilità gravi. Il progetto, voluto da CONFAD, il Coordinamento Nazionale di Famiglie con Disabilità, è stato presentato questa mattina nella sede pescarese della Regione in Piazza Unione. Roberto Sant'Angelo, Assessore alle Politiche Sociali della Regione Abruzzo. È unico in Italia questo progetto OASI che mette al centro il caregiver, ovvero la persona che pone assistenza. Nasce dalla collaborazione dell'Assessorato delle Politiche Sociali che con un atto di indirizzo ha reso possibile questa iniziativa importantissima. Quindi vogliamo dare assistenza alle famiglie con persone con disabilità, ma mettendo al centro anche le persone che svolgono questo tipo di attività all'interno del nucleo familiare e vogliamo dargli sollievo a 360 gradi alla persona e non le vogliamo lasciare sole. Quindi il progetto OASI mette al centro il caregiver a 360 gradi, il supporto psicologico alla persona, il tempo libero della socializzazione, perché la società, la comunità insieme può affrontare questo tipo di problematiche. Questo progetto sperimentale durerà un anno. Se dovesse riportare ottimi risultati come noi speriamo, può diventare una buona prassi da esportare a tutto il sistema regionale attraverso l'inserimento nel piano sociale regionale. Concretamente come si attua questo progetto? L'associazione attiverà degli sportelli psicologici di supporto al caregiver, darà delle azioni concrete di supporto ai familiari che si occupano del caregiver familiare. Alessandro Chiarini, presidente nazionale di CONFAD, in che modo questo progetto potrà aiutare le famiglie con disabilità? È un progetto che abbiamo curato noi e che abbiamo proposto a Regione Abruzzo, quindi sicuramente un ringraziamento all'amministrazione regionale che ha capito l'importanza di questa attività, che vuole offrire sostegno e inclusione attraverso delle attività di sollievo. Quindi il caregiver familiare, cioè quel familiare che spesso non può conciliare un'attività lavorativa perché deve accudire a casa un parente con disabilità grave e non autosufficiente, in questo caso potrà godere di qualche ora di sollievo per godersi un pochino di riposo, perché davvero spesso ci sono persone che sono davvero al limite delle forze rispetto a questo tipo di attività. E quindi oggi prende avvio, diciamo, ufficialmente a questo progetto che noi abbiamo voluto fortemente e quindi grazie alla collaborazione con Regione Abruzzo a modo così di poter essere reso concreto a sicuramente beneficio di tante famiglie con disabilità. Nel corso della conferenza stampa l'assessore alle politiche sociali ha annunciato anche un altro bando per caregiver finanziato dalla Regione Abruzzo con 950 mila euro. Da lunedì, spiega Roberto Sant'Angelo, sarà possibile inoltrarre le domande. Posso anche annunciare che oggi la Regione Abruzzo emanerà un bando di 995 mila euro per il caregiver familiare, una somma mai avuta prima perché si è passati dai 200 mila euro del 2018, tra quest'anno e l'anno scorso circa il 40% in più per mio preciso volere, perché vogliamo dare una completa assistenza a questo tipo di attività.